Musica Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Battle4Games Io sono Carlo e oggi siamo qua tornati su Battlefield 3 Finalmente ragazzi siamo di nuovo qua per il secondo video Diciamo perchè avevamo già fatto quello con il nostro fantastico M4100 No, l'M16A3, non l'M416 Oggi siamo tornati per fare un video con lo sniper aggressive recon ragazzi Uno di voi mi ha chiesto, Carlo perchè non fai un bel video con l'aggressive recon? Faccio cagare, però lo faccio ragazzi SV98, dove ci mettiamo? Vediamo, vediamo Accessori, cobra, turatore, silenziatore, va bene Va bene così ragazzi, abbiamo anche il silenziatore così saremo dei ninja totali La partita, ok no è appena iniziata, perfetto No, muori Ok è andata bene, questo qui ci ha fatto il pompone Siamo partiti subito male con l'agenda del col pompa Però se ci concentriamo possiamo fare la strage con questo fucile Anche se ci vogliono due colpi per uccidere un nemico A meno che gli fai saltare la testa E il problema è trovarli i nemici Perchè se non li trovo i nemici Non li uccido neanche Quindi adesso li vado di qua E qua c'è E qua c'è quello col pompa Che ti sciotta Però mi hanno rianimato, sono il top Via Dalle Ho ucciso One shot, one kill headshot ragazzi Là sopra c'è un ninja che fa il camper Che ho ucciso, mamma mia È andata da dio proprio ragazzi Mi è andata benissimo Ricarichiamo Questo è mio Questo è mio No 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 Vaffanculo Già hai parato il culo in una maniera allucinante Ok Obiettivo di questa partita ragazzi È coltellare almeno un nemico È quello Me lo sono sognato Me lo sono sognato evidentemente Ok Un cecchino che mi guarda L'ho cannato Dove sei? No Di Sono ovunque però Ce ne erano troppi ragazzi Non era possibile salvarsi Dove cazzo? Ok Tipo se io vado qui Là E prima Uccido Perché si ci devono spostare appena clicco il tasto sinistro? Ok Andiamo di qua Non dietro Perché sono ovunque raga? Sono ovunque O sono io cecato che non li vedo Andiamo No Sopra non ci vado Non mi piace camperarmela Ci sono dei cecchini ovunque Perché sento che mi stanno arrivando mille mila proiettili addosso Laga Qui c'è uno che Eggio No M39 E MR Stiamo andando discretamente bene raga per ora Ovviamente no L'ho cannato in pieno Ve l'è morto Ve l'è morto Andiamo di qua Svam Oh mamma mia No No S'è ancora questo con l'M39 Obiettivo a coltellare quello con l'M39 ragazzi Ti vengo a cercare Non ho guardato come si chiama Però adesso lo vado L'ho cannato L'ho ucciso però Per ora stiamo facendo in media una kill e una morte Però quando mi rianimano Non mi ucciderete Giuro che non mi ucciderete Mi hanno ucciso Va bene Va bene così ragazzi Tanto a me fare il ratio Iperovapaua Non mi interessa Quindi Io gioco per L'ho accoltellato Non era quello con l'M39 però Mamma mia Mi ha fatto un dio Mi ha fatto Ok Andiamo di qua Là c'è una marea di gente Questo perché è morto Come ha fatto a morire Ditemi Ah pensavo fosse un mito Sbam Ok Non l'ho ucciso Sbam Ok l'hanno ucciso degli altri Qui No Non mi Mi ha ucciso Ogni volta che dico Non mi uccid Ogni volta che dico Non mi ucciderai Mi uccidono Quindi adesso Ogni volta che vedo un nemico Dirò Mi ucc Mi ucciderà L'ho cannato L'ho cannato L'avranno ucciso No Come cacchio è morto raga Raga sto cannando Tutti in pieno Proprio No Qualcuno qui mi tira le granate Non va bene Dio Non ci posso credere Colui che mi tira le granate Dov'era Che fa il ninja Se ci sei ancora Giuro che muori Va bene Io me la fugo Con calma Noi giriamo Di qua Di là Sbam Come cazzo È stato possibile È impossibile Che io non l'abbia colpito Raga Qui c'è Ma questo qui È ancora qua Che rompe le palle Non c'è Oh finalmente Cioè era qua Che girava intorno Che faceva la strage Ok Ora siamo liberi Di andare Dove ci pare Torniamo a fare Del macello In mezzo ai container Oh L'ho coltellato Di striscio L'ho ucciso Lol Mi hanno rianimate Il top Vai 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 Non mi rianimate Però in mezzo alla mappa Quando ci sono 46 nemici intorno Comunque In questa mappa Ci devono sempre essere I pro col DAO I fucili a pompa Raga Non è proprio Una cosa Possibile Che non si trovi Un server Dove non c'è Della gente Con dei fucili A pompa Spam Non è morto 25% di salute Il brutto Del Di usare il cecchino Quando non si è Infanatico Però vabbè ragazzi Non si poteva fare Un video infanatico Via Via Muori Vaffanculo Ragazzi stiamo facendo cagare Stiamo facendo 10-11 Almeno vorrei finire in positivo Anche se ho appena finito Di dire che non mi interessa Però vabbè dai Sarebbe Diciamo una cosa bella Per il canale Finire in positivo Però Non voleva coltellarlo No no Non voleva coltellarlo Vai tranquillo Che non ti voleva coltellarlo Granata random Figurati se uscite Perché c'è la granata Perché c'avevo la granata in mano Mamma mia ragazzi Perché c'avevo la granata in mano La E due Ragazzi mi dovete ancora spiegare Perché c'avevo la granata La granata in mano L'ho ucciso io Mamma mia Come fottere le kill Muori Mamma mia Che culo Botta di Mi ha parato il culo Il mio amico Sto giro No No Mi stava andando troppo bene Avevo fatto tipo Due kill di fila E quindi Non andava bene Torniamo di qua Ok Mi sto iniziando ad ambientare Quello come cacchio è morto No In questo server ci sono solo dei nabi di livello 5 10 Vabbè nabi ci fa per dire ragazzi Però Usano tutte le armi Base Quindi sono tutti di livello basso Cioè poi non è detto eh Sbam Oh Quick scoop Questo era un quick scoop ragazzi Alla code proprio Mi sto sentendo uno schifo Vabbè ragazzi Torniamo in mezzo E fare del macello Tipo io vado e dico Se lo uccidevo Muori Non muore Non muore Ok Questo video sto sclerando Più che in battlefield Granata Numero 2 Non mi Ho hitato uno Io ho fatto 72% di danno E non l'ho ucciso Stai tranquillo Sono amico Perché mi stanno sparando Non è morto No Olli coltello ragazzi Olli coltello Siamo quarti 15-17 Giusto così Amico Anche quello Ok Qui ci sono un paio Di enemies No È morto Qui sta arrivando uno Bam Non è morto Ma perché non muoiono Che due coglioni Perché ci vogliono due colpi In battlefield Con un cecchino calibro 50% Ma perché ci vogliono due colpi Mi fa venire Hola Lol ragazzi Sto uccidendo tutti col coltello C'è sopra il ponte L'avevo visto Sto uccidendo tutti col coltello Mi sembra giusto Ok Granata random in mezzo È quasi finita la partita ragazzi Già che non ce la facciamo mica Con un cludere in positivo Perché Sta andando male Questa partita Ok Alleato Ok Proviamo a concluderla In bellezza No Ce n'erano due raga Ce n'erano due Rianimami Bravi No Scappa fuga tra Via Proviamo a concluderla in bellezza Vediamo se ci riusciamo Però non fottetemi Le kill Vaffanculo Ragazzi ci do un mucchio io No 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 Non è possibile Arrivano ovunque Ma da dietro Mi hanno ucciso 22 volte da dietro E poi li canno Quindi no 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 Ragazzi Questa partita era destino Che finisse così Perché ma le sparano sempre da dietro Ma che due coglioni Va bene Basta ragazzi È data così Abbiamo fatto una partita di merda Però vabbè Le nostre 17 kill Forse le abbiamo fatte Vediamo 18 Quindi è ancora meglio 18-22 E vabbè La partita non è andata molto Come speravo Però vabbè ragazzi La metto lo stesso E la prossima volta Cercheremo di fare meglio Io spero che ragazzi Lo sclero vi sia piaciuto Abbiamo tipo fatto 5 o 6 kill Col col coltello Quindi Questo è stato il top Mi raccomando ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentatemi questo video Qui sotto Scrivendomi Alcune armi da usare Per continuare questa serie In attesa che escono Nuovi giochi Perché qui siamo un po' Senza giochi Oltre a FIFA E Battlefield Perché il 4 Non ci giocherò mai più In tutta la mia vita Quindi scrivetemi Alcune armi da utilizzare Qui sotto Nei commenti Io con questo ragazzi Vi saluto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Mi sembra scontato Però vabbè ragazzi Con questo vi saluto ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao